Fabrizio, ci sei? Sei puntuale stavolta? Non per meglio. Tranquillo Hector, ci sono alla sesta stagione, non ritardo, ci puoi contare. Arrivo, tu intanto però comincia e vai di sigla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hector, siamo di nuovo qua in sala borsa, non ci cazzano più via. No, speriamo. Le ultime parole famose. Che non siano appunto le ultime parole famose, comunque di pure. Però questa è una puntata con la giusta frequenza, tu sei sulla giusta frequenza oggi. Si, sono perché con noi abbiamo un grande comunicatore. Esattamente, noi diamo il benvenuto qui a Francesco Fossa di BBU. Ciao a tutti, che bello essere qua e grazie per l'invito ai conduttori. Grazie a te di aver accettato il nostro invito. E però partiamo subito in quarta, perché ti chiediamo che cos'è BBU e quanto coraggio e quanta follia è stato necessario per farla nascita. In quarta davvero, allora. Allora, BBU che cosa vuol dire? Vuol dire Bologna Blog University. Quindi nasce come un progetto di blogging sotto l'associazione universitaria UniversiBoh. Oggi è un progetto indipendente, perché UniversiBoh si è fatta da parte. E appunto è un blog con un proprio sito, con i propri bloggers, quindi funge da aggregatore di bloggers. Scriviamo e abbiamo scritto soprattutto di notizie, di approfondimento vario che interessa soprattutto un pubblico giovanile. Ma non solo, c'è un però in tutto questo. C'è un però, quest'anno BBU ha grandi ambizioni. Ha grandi ambizioni perché ha il grosso progetto di diventare una vera e propria testata giornalistica. Una giornalista giovanissima, Claudia Contaldi, che saluto, ciao Claudia, ha preso la direzione di BBU e ci permetterà appunto di realizzare questo progetto. C'è stato proprio, c'è stata una riforma, visto che va molto di moda adesso questo termine, una riforma costituzionale di BBU, per cui adesso scriviamo proprio come una redazione giornalistica, quindi con le varie sezioni, politica, arte, spettacolo, quindi anche musica. E in più abbiamo il progetto radiofonico di Web Radio che dirigo personalmente. Quindi una bella realtà, tante belle facce pulite, tanto entusiasmo. Stiamo cercando di costruire qualcosa di bello, anche un po' per sfatare quel mito secondo il quale noi studenti siamo gli ubriaconi di Piazza Verdi, siamo quelli che demoliscono costantemente Bologna. E no, siamo anche quelli che costruiscono, che fanno qualcosa, perché no, anche per la cultura, perché alla fine studiamo, quindi ci siamo. E quindi il palinsesto che già è presente in BBU cosa comprende? Allora, il palinsesto radiofonico, immagino. Il palinsesto radiofonico, sì. Allora, per quanto riguarda la radio, adesso abbiamo, siamo partiti con una sola trasmissione settimanale l'anno scorso. La radio è nata da aprile, ho preso questo progetto da aprile. E siamo partiti con una sola trasmissione che è BBU Talk, la trasmissione storica che si propone di avere tanti ospiti, di raccontare tante realtà del mondo giovanile, studentesco, della Bologna by Night, per esempio. Visto che Bologna è tanto famosa per la vita notturna, ma non solo, ecco, non siamo solo quelli del divertimento. Non ci piace prenderci sul serio. Ecco, diciamoci la verità. Importantissimo. E abbiamo comunque altri ospiti che ci hanno portato, per esempio, lavori di fumetto, di scrittura, tante belle cose, ci proponiamo appunto con questa trasmissione di portare in luce una realtà creativa che molto spesso non viene fuori. Poi, da quest'anno, abbiamo ampliato il nostro palinzesto e abbiamo il lunedì la trasmissione del cinema con Matteo Righi, che voi ben conoscete, che voi ben conoscete. Strano, il cinema. Strano, Matteo, il cinema. Ma sì, qualcosa che non credevo mai potesse starci. Quindi, Matteo è chiaramente una persona giovanile che proprio ci teneva a collaborare con noi perché gli piace essere giovane, proprio dentro. Sì, sì. Diciamoci la verità, ecco. Abbiamo il degenerando cinema. Il mercoledì continua ad esserci BBU Talk. Il venerdì abbiamo una bellissima trasmissione, a cui io tengo particolarmente, che si chiama In Music, musica emergente. Un mondo a dir poco controverso perché, come sappiamo, in Italia probabilmente ci impongono dei modelli di musica e magari i modelli più di qualità rimangono nel sottosuolo, come un po' in generale, quasi in qualunque forma d'arte, ci lo possiamo dire tranquillamente, penso. Quindi una trasmissione a cui io tengo molto, la conducono Giulia Pozzi e Laria Ballerini, molto divertente, vi facciamo ascoltare tanti artisti che probabilmente non troverete mai così facilmente in giro, lontani dalle major, lontani dal mainstream, però con tanto entusiasmo o tanto divertimento, noi vi proponiamo la nostra musica e speriamo possa diventare anche la vostra. Questo penso che sia importantissimo, questo aspetto che contribuisca anche dal punto di vista musicale, ma non solo, a creare una identità solida anche per la radio e per la realtà di BBU in sé. Tra l'altro appunto questo mi ricollega a un fatto di cui si è sempre discusso e qua volevo sentire anche un po' la tua opinione, chiamala anche una domanda critica se vuoi, ma io non sono mai riuscito a capire perché appunto le grandi major semplicemente o comunque anche la CIA stessa non possa concedere a delle radio, delle web radio soprattutto che contribuiscono a dare un senso anche alla realtà in questo caso di Bologna, una licenza diciamo anche gratuita o comunque per pubblicare le canzoni, per avere una playlist diciamo più corposa, sappiamo bene, una radio emergente o comunque qualsiasi altro canale, all'inizio ci sono pochi soldi, poche risorse, avrebbe bisogno anche di un sostegno per farsi conoscere e questo non avviene secondo te perché? Perché c'è una sorta di lucro, perché non si crede in questi nuovi progetti o semplicemente perché non ci si fa caso. Allora ti do una risposta da Francesco Fossa, mi distacco completamente da BBU. Devi dare una risposta a Francesco Fossa. La mia idea è questa, la cultura libera molte volte è ritenuta pericolosa. Non l'ho trovato, sì. È ritenuta pericolosa. Sempre da sempre. Come io sono già da amato a questo ragazzo. E quindi lasciare spazio, potenziare con qualunque mezzo realtà indipendenti come possono essere le web radio, come possono essere i blog, risulta essere un po' controproducente forse per chi con la musica e con altre forme di cultura, anche con l'informazione, ci fa dell'affarismo. Noi sappiamo che abbiamo in Italia una realtà in cui non esiste l'editoria pura, quindi già questo dice tutto. Abbiamo un'editoria che... l'editoria diventa un mezzo per poter fare del soldo. Quindi i grossi imprenditori sono anche i più grossi editori qui in Italia. Quindi penso che dare così sfogo all'editoria indipendente in Italia sia sempre stato così, un pochino, un pochino, ecco, antiaffaristico e forse in Italia questa concezione dell'affarismo è ancora difficile da superare, ecco. Quindi la faccio un po' così, una risposta da massimi sistemi però è quella che mi sento di darti così di cuore. È il senso anche delle nostre chiacchierate in cuore. Hector, tu che cosa vuoi chiedere al nostro amico? No, io sono rimasto rapito dalla sua parlantina, dalla sua esporre le cose e quindi... Però, ecco, mi viene a parte una domanda. E' chiaro che tu sei un grande comunicatore quindi fai radio appunto per comunicare e così via. Ma esattamente per te cosa significa costruire appunto, aver costruito questa radio, queste rubriche che poi mi auguro che ce ne saranno ancora molte. Per te, qual è la valvola che ti ha fatto scattare? La ragione che mi spinge a fare tutto questo, diciamo. Sì, anche la ragione. Il fatto che io creda molto, molto, molto nel valore della giovinezza perché penso che cambiando la mentalità di una certa fascia del nostro paese, di una certa fascia d'età del nostro paese che è quella più giovane, quella a cui io appartengo, si possa davvero sperare in un futuro migliore. Io cerco di proporre trasmissioni controtendenza, così possiamo definirle, diciamo con proposte diverse dal mainstream, con una forma molto fresca, molto divertente, in modo da attirare più gente possibile e lanciare dei messaggi che possano in effetti cambiare il modo di pensare di chi ci ascolta. Io credo molto nel web, io personalmente sono un fan di Fabrizio e Matteo con il loro blog di Degenerando Cult e devo dire che da quando io ascolto loro, da profano del cinema, le loro trasmissioni hanno completamente cambiato il mio modo di vedere cinema e quindi il mio modo di crescere. Io cerco di fare, nella massima modestia chiaramente perché non voglio fare il guru, il santone, ecco, cerco di fare la stessa cosa, cerco di offrire dei prodotti che possano far crescere, che possano stimolare il pensiero, tutto qui e che possano nello stesso tempo intrattenere e divertire, quindi questa è sicuramente la ragione fondante di questa radio, assolutamente. Vogliamo ripetere il nome della radio? La radio si chiama BBU Web Radio, il blog è BBU Bologna Blog University, ci potete seguire su bologna blog university punto it, troverete la sezione web radio e ascoltateci, ecco. Francesco, un'ultima curiosità ti chiedo, quali sono gli elementi che si deve avere per entrare a far parte di BBU? Allora, per entrare in BBU, ecco, diciamo che innanzitutto che noi non siamo una realtà con le porte chiuse e devi essere così per entrare in BBU, se no, non vale nulla, no. Con BBU può comunicare, può interagire chiunque, chiaramente. Chiaramente anche come redattore, parlo come parte di giornalista. Certo, certo, e bisogna avere la padronanza della lingua italiana. Che non è una cosa così scontata. Non è scontata, purtroppo. E bisogna avere della creatività, della voglia di fare. Noi in BBU puntiamo a fare di questa cosa non solo una passione, ma anche un mestiere, chi lo sa. Noi proviamo a sognare, quindi ci piacerebbe avere a che fare con gente che sogna, con gente che ha voglia di comunicare, che ha voglia di pensare e di proporre il proprio pensiero agli altri. Questa, diciamo, è la cosa principale. Poi una buona dose di creatività sicuramente non guasta, perché ne abbiamo bisogno. Ecco, se non siamo creativi a vent'anni, porca miseria, siamo finiti, siamo finiti. Quindi questo, sicuramente queste sono le doti. non è scontato, non essere creativi, deve essere a perché, appunto. Comunque, bene. Cosa ci rimane da dire, caro Fabrizio? Ci rimane da invitare tutti coloro che ci guardano, che ci seguono, a seguire anche BBU. Questa nuova realtà che sicuramente ha tanto entusiasmo, tante promesse e speriamo che comunque vada avanti nel tempo, perché è importante che comunque le web radio fatte dai giovani, con i giovani, ma non soltanto per i giovani, prendono piede e diano, diciamo, un nuovo modo di vedere, non soltanto la realtà di Bologna, ma la realtà in generale del mondo radiofonico, che troppo spesso viene usurpata proprio da queste radio, chiamiamole anche storiche, che però purtroppo dettano delle regole anche troppo rigide e creano dei canoni che ormai, secondo me, non vanno più. Certo. Quindi c'è bisogno proprio in questo caso di nuove idee e nuovi sogni, come giustamente hai detto tu. Poi se anche io ed Ettore possiamo far parte di questi nostri sogni, adesso butto lì la cosa in video, così non si può tirare indietro. A noi piace avere a che fare con la gente creativa, quindi mi sembra di aver capito che voi lo siete. Quindi voi siete, sarete sempre i benvenuti in radio, nel blog e insomma. Ricordiamo il sito che è in sovraimpressione, Radio BBU e alla prossima di incontri a Bologna ragazzi, sempre in sala borsa. Speriamo di poter essere la vostra alternativa. Ciao! 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 Ciao!